Ufficialmente a quello che sarà il settore calcio della Marco Polo Sports Center dove daremo le date e all'inizio di settembre, dal 2 settembre, cominceremo con gli Open Day. Nasce questa collaborazione insieme al National e quindi Marco Polo Sports Center e il National iniziano questa collaborazione che speriamo porti gli ottimi risultati, gli obiettivi risultati che sono quelli sperati dopo un investimento come abbiamo fatto in questo centro che può garantire a tutti i ragazzi di fare attività in un centro sportivo all'argomento. Sembrava che ci fosse anche una croce verde in questo progetto, poi invece continuerà per la sua strada.